Posso fare una domanda a Cruciani? Sì, e come no? Signor Cruciani, mi scusi, lei è mai stato precario? Lei ha mai convissuto... Io vivo in una condizione di privilegiato, per carità, io vivo in una condizione di privilegiato perché sono... Quindi lei non può capire la disperazione. Alla tua età sono stato precario, guarda, amico mio, alla tua età sono stato precario, per cui non venire a darmi lezioni di vita a me perché non è carico. Quanti anni hai? 31 quasi. A 31 anni già lavoravi da giornalista però con una busta pari. Sì, ma con contratti precari. Ma Luca, non è quello il problema. No, 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 siamo più fortunati. E Oliviero ha detto una cosa strana mentre parlava, anche tu ti senti ancora ora precario? Non ho mai avuto uno stipendio in vita mia. Eh, ho capito. Vabbè, non ho mai avuto uno stipendio. Scusa. Vabbè, scusi, fino adesso lei come ha fatto? Sono precario e lei ho lavorato. Vabbè, ha lavorato, quindi non c'è più uno stipendio. No, 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 stipendio, ma hai preso uno stipendio. Com'è possibile? Io sono libero. E' pagata per un oggetto, per una campagna fa. Ti faccio una foto, mi paghi, va bene? Ok, perfetto. Ok. Vabbè, lei è un libro professionista, giustamente. Liberissimo, liberissimo. Perfetto. No, ma questo strano pensiero del lavoro. Avete un'aria così dimessa, così triste, che io non vi assumerei mai. Esatto. No, no. Mai. Con un'aria così triste. No, no, no. Ma dovete, ragazzi, continuate a dire cosa facciamo per i giovani. Ma cosa fate voi giovani per noi vecchi? Noi continuiamo a lavorare. Ma io sto qua che aspetto, finché voi non fate qualcosa per noi. Non succederà niente, scusi, però. Ma no, ma io sto soffrendo a pensare che il 40% di giovani di intelligenza è buttata via. Ma loro non devono fare niente. Loro devono fare. Tu non hai prenduto nulla per la generazione di tuoi bambini. Ma no, la mia generazione ha pagato per i genitori e adesso pagare i bambini. Signor Cascani, mi scusi un attimo. No, però non so. Posso dire soltanto una cosa? Scusate, possiamo riportare un po' di energia. Noi oggi siamo andando a te, tu. E' una depressione così. Quello è il problema. Noi oggi siamo pagati i vostri errori. I vostri errori. Gli errori di mio padre, gli errori di mio nonno. Non si parla di vostri errori. Noi abbiamo fatto i genitori umani, i diritti civili, ci siamo battuti importanti cose. Ma perché per lei è normale che uno deva lavorare con un contratto a settimana? Datevi da fare un po' di entusiasmo. Ma noi ce l'abbiamo l'entusiasmo. Inventatelo, inventatelo. Come lo inventiamo? Senza soldi, come lo inventiamo? Dovete inventarlo. Non ci può inventare. Va bene.